Sono molto felice, veramente felice, sì, una partita così... Mi facciamo anche peggio che la prendiamo risposta. Sì, no, guarda, in dieci anni vi dico, io una partita del genere non l'ho mai vissuta. Ma scusa, hai un secondo assist simile anche a quello del 2-2 del Peruta? Sì, sì, molto simile. E tu rientri finti e la metti bene sul secondo palo a mano? Sì, diciamo che con i ragazzi si è conferiti con Gala che hanno quelle caratteristiche, ci conosciamo, sanno che io la metto lì, è stato decisivo, importante a questo, perché sto bene, il mister sa che può portare su di me. Grazie.